vediamo cosa mi posso inventare attenzione la palla il Napoli adesso può provare può provare a rieprire il tutto ci provo prendo la difesa vediamo che cosa mi posso inventare da qui la palla è buona posso dribblare è solo in mezzo la difesa spazza attenzione al Napoli che è in zona del tiro il Napoli ci prova da distanza lo salto me la può passare attenzione perché è lunga giusta quanto basta l'ho buttato per terra non voglio prendere gol contro questa partita eccolo Lukaku è spinta di nuovo calcio d'angolo ci arriva ci arriva però la perde la mette al centro però ovviamente il cross impreciso è lungo il portiere fa lo scavino per terra non ho voglia di fermarmi non riesco a superarlo questa volta in dribbling attenzione altra occasione non corro più come prima però ovviamente c'è la stanchezza c'è la stanchezza adesso attenzione al Napoli demoniato circa a l'ho 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 Grazie a tutti